Dai e dai la situazione dell'ISAC di Bassano a Proda in Canal Grande, lato Palazzo Balbi. Venerdì mattina le sigle sindacali riunite saranno ricevute nella sede del Governo regionale dall'assessore Veneto alla Sanità, Manuela Lanzarin. Venerdì mattina incontreremo CGL Cisluil, compresi i segretari generali, l'assessore alla Sanità della Regione Veneto, dottoressa Lanzarin. Sul piatto le molte richieste già avanzate dai sindacati, a partire dallo stop al progetto di privatizzazione, passando per le esternalizzazioni e soprattutto la richiesta di dimissioni del CDA avanzata dalle sigle sindacali, dall'amministrazione comunale e dalla politica bassanese dopo un periodo di tensioni fortissime. Finalmente avremo davanti a noi la persona deputata a prendere decisioni e speriamo che appunto ascolti e recepisca quello che noi chiediamo da tanto tempo e cioè la non privatizzazione dell'ISAC, le non esternalizzazioni e la salvaguardia dei dipendenti che attualmente sono in servizio. Le sigle sindacali ribadiscono la necessità di salvaguardare i livelli qualitativi dell'assistenza, mantenuti comunque dal personale nonostante le vicissitudini ben note. Al primo posto naturalmente l'assistenza agli ospiti che comunque rimane sempre adeguata. Fin qui la parte che riguarda il pubblico, mentre dal privato, ovvero dal CDA, non sono arrivate novità negli ultimi giorni. Anzi, il presidente Clemente Peserico ha solo confermato la volontà di proseguire con il progetto della nuova ala di residenza Sturm e del percorso di depubblicizzazione. Non è stato comunicato nulla di ufficiale dal parte del rimanente CDA e comunque ribadiamo ancora in questa sede al CDA in carica no alla privatizzazione dell'ISAC e sì a tutti i punti che abbiamo scritto nel comunicato ufficiale che è stato diramato la scorsa settimana e che è pervenuto anche al CDA. Insomma, il CDA non ha intenzione di dimettersi e sullo scioglimento d'imperio da parte della regione l'assessore Lanzarin ha fatto sapere a mezzo stampa che la faccenda potrebbe essere piuttosto spinosa. A questo punto sindacati, lavoratori e politica sperano che la riunione di Venezia di venerdì mattina non diventi un buco nell'acqua.